autorizzazioni. Il conseguentemente è completamente cancellato. Va bene, grazie. Poi sentiamo se l'onorevole Mazzotti accetta la riformulazione. 8.18 Sisto. Ah no, aspetti, aspetti, aspetti. 8.16 Sisto. Mi hanno fatto un segno. 8.16 Sisto, contrario. 8.3 Parisi, contrario. Entrambi identici. Quelli successivi sono ritirati, gli identici Parisi e Centemero. No, scusi, è ritirato solo il Centemero. L'8.2 vive. Ed è contrario. 8.18 Sisto. 8.17 Centemero. 8.11 Centemero. E' ugualmente contrario. Grazie. Adesso passiamo all'onorevole Toninelli. 8.7 Fraccaro. Favorevole. 8.6 Fraccaro. Favorevole. 8.1 Civati. Favorevole. 8.14 Sisto. Contrario. 8.13 Sisto. Contrario. 8.100 Mazzotti di Celso. Mi rimetto all'Aula. 8.16 Sisto. Contrario. 8.3 Parisi. Contrario. 8.2 Parisi. Contrario. 8.18 Sisto. Contrario. 8.17 Centemero. Contrario. 8.11 Centemero. Contrario. Grazie. Prego. Onorevole Sisto. Presidente, grazie. Non cambia la logica nel formulare i pareri su questo provvedimento e lo dimostreremo con alcune affermazioni. 8.7 Fraccaro. Contrario. 8.6 Contrario. Poi andiamo al Civati. Credo che sia questo. Lo vedo dal numero delle pagine. 8.1 Civati. Contrario. 8.14 Parere favorevole nel tentativo di delimitare l'ambito di questa normativa. 8.13 Favorevole. Il tema della interposta persona che abbiamo già affrontato nelle scorse discussioni. 8.100 Con la riformulazione che è il relatore, che è stata accettata dai presentatori, la dimostrazione.